Ehi, da dove salti fuori? Vajra C'è razzi E tu chi senti? L'ordine è di radunare tutti al quarto livello Ehi, da dove salti? L'ordine è di radunare tutti al quarto livello Raktou Fermo Ora tu verrai con noi Grado sarà contempo di vederti Andiamo Grazie a tutti Ideale come materia prima, che ne dici? Lo so che stai guardando, amica mia Quando questa dose potente di siero Entrerà nelle tue vene Tu me ne sarai grata Fermi dove siete Alzate le mani e camminate Oh 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 Sta tranquilla Barbara, ti tireremo fuori di qui ad ogni costo. Il mio umanoide è passato dalla loro parte, com'è possibile? Uccidetelo. State attenti. Tieni, coprici. Questa te la farò pagare cara, Craspin, non sei un povero in etto. Aspetta, sono ancora in grado di neutralizzarlo. Gas narcotico. Via, tra poco il gas arriverà anche qui. Sto male. Craspin, il siero ne ho bisogno. Resisti per qualche minuto, lo avrai sull'aeronave. Presto, andiamo. Grazie. 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 Grazie.